Ben trovati, quante volte abbiamo parlato della città di Taranto, anzi troppe volte purtroppo ho anticipato ciò che poi non sarebbe avvenuto in favore di una comunità importante come quella Ionico-Salentina, in questi giorni sentiamo quelle inutili e stupide polemiche perché poi al di là di tutto non succederà nulla di quello di cui si sta discutendo ora a proposito delle province, questo battibecco anche tra il Presidente Florido, Gabbellone o il Ferrarese o il Sindaco di Brindisi, ma tutte queste chiacchiere, così come ho già detto ieri parlando dei problemi che non sono affrontati, mentre nell'America di Obama si parla delle necessità della gente, continuano a danneggiare anche a livello territoriale e periferico quelli che sono i bisogni comuni. Domenica ci sarà una iniziativa, ritengo estremamente importante, che alcuni professionisti di Taranto, artisti di Taranto, gente comune legata ad associazioni, legata a movimento per una Taranto migliore, stanno cercando di concretizzare con un messaggio, con un messaggio musicale che sarà gratuitamente poi, come dire, ascoltabile anche attraverso la rete o dei DVD che loro andranno a produrre, tutto in modo gratuito, perché avvertono una necessità, quella di risvegliare le coscienze, le coscienze per un ambiente pulito ma per un lavoro sicuro, le coscienze per un futuro mondo occupazionale che si occupi di Taranto e che non sfrutti Taranto e tutti i tarantini. Per parlare di out, ma vi farò dire da uno dei promotori, cosa significa questo? Che non è solamente un out a chi sino ad oggi ha sperperato contro tutti coloro che poi periodicamente sono chiamati al voto, abbiamo uno dei promotori che è un professionista tarantino con lobby del canto e quindi, come dire, protagonista di questa iniziativa. Marco Nuzzo dovrebbe essere collegato già con noi telefonicamente. Dottor Nuzzo, buongiorno. Sono qui direttore. Benissimo. Allora, cosa è out? Ci dica. Già come sigla, ce la spieghi. Sì, certo. Allora, intanto out è l'acronimo di Artisti Uniti per Taranto. Sotto questo acronimo c'è un'unione di professionisti, ma non solo, nell'ambito musicale.